Gentili amici all'ascolto, un saluto a tutti da Luigi Caratelli. Siamo giunti all'ultima puntata di questo nostro viaggio nel mondo del sovrannaturale. Probabilmente avrò scontentato molte persone e sono a vostra disposizione per poter continuare questo dialogo in maniera pacata, sincera, matura. Ho molto materiale a disposizione che posso darvi, ma aspetto anche vostro materiale, vostre indicazioni, vostre critiche, perché è con queste che mi nutro e che cresco. E quindi fin d'ora vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Volevo concludere, dicevo, questa serie con una puntata un po' più lunga delle altre, mi perdonerete, vi faccio questo sgarbo e poi non sentirete più parlare di fenomeni paranormali, citando alcuni passi controversi della Sacra Scrittura che spesso i credenti che non accettano il messaggio del sonno dei morti tirano fuori per poter sostenere l'idea dell'immortalità dell'anima. Alcuni passi sembrano proprio voler dire l'anima è immortale. Se letti attentamente invece dicono esattamente il contrario. Uno dei passi più gettonati, possiamo così dire, è quello che si trova nel capitolo 28 del primo libro di Samuele, dove si narra l'esperienza del re Saul che tradisce Dio, che si sente abbandonato e per questa angoscia da placare va a consultare una medium. Prima è detto in 1 Samuel, capitolo 28, versetto 6, che Saul consultò dunque il Signore il quale non gli rispose né con sogni né con gli urim né per mezzo dei profeti. Gli urim erano le pietre sulle spalle del sacerdote che si accendevano come risposta della volontà di Dio, una per il sì, una per il no. Quindi il Dio non rispose a Saul con nessun mezzo conosciuto allora per poter interpellare il Signore. Dunque il Signore non gli rispondeva più e allora lui andò a consultare una medium, una pitonessa si dice. E nel testo si fa capire che la pitonessa evoca l'anima di Samuele, il profeta che era morto e al quale si appoggiava Saul. Quando Samuele era in vita, Saul chiedeva spesso consiglio a Samuele e lo riteneva un messaggero di Dio. Morto Samuele viene a mancare anche questo mezzo per poter contattare Dio a Saul ed ecco che allora va da una medium per fargli evocare lo spirito del defunto profeta. Ma se Dio non ha risposto a Saul direttamente, perché userebbe un intermediario anche se è un profeta? E' un profeta che insieme a Saul aveva emanato una legge, una proibizione assoluta di consultare gli spiriti. Potete leggere questo nella Bibbia, nel capitolo 28 di prima Samuele. Quindi com'è possibile che Samuele in vita abbia proibito l'evocazione degli spiriti e poi da morto invece permette a Saul di usare questo mezzo proibito? Quindi lo spettro che apparve a Saul era una contraffazione demoniaca. Infatti il testo non dice che apparve Samuele, ma apparve un essere maestoso, che la medium e Saul pensarono fosse Samuele. Ebbene Saul consultò un demonio, non Samuele, perché abbiamo detto che i morti dormono e i demoni possono, lo dice anche la Sacra Scrittura, in qualche modo trasformarsi da angeli di luce e quindi anche prendere le sembianze dei nostri cari defunti. E nel libro delle cronache dei re di Israele è detto che, una cosa molto interessante questa, così morì Saul a motivo della infedeltà che gli aveva commessa contro l'Eterno, col non aver osservato la parola dell'Eterno, perché era stato disubbidiente Saul. E poi aggiunge il cronista, e anche perché aveva interrogato quelli che evocano gli spiriti. Quindi la Bibbia è fedele a se stessa, la Bibbia proibisce l'evocazione degli spiriti, Saul muore anche perché aveva in qualche modo distrutto questo argine, aveva disubbidito al volere di Dio e aveva consultato una medium. Voi direte, ma il Dio proibisce perché non è una pratica utile all'uomo, però i morti sono vivi, perdonatemi il bisticcio di parole. Non è così, i morti secondo la Bibbia dormono, ed è per questo motivo che Dio proibisce l'evocazione degli spiriti, perché non sono i morti ad apparire, ma tutt'altre entità. C'è un testo in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 29, in cui si facenno a un battesimo dei morti. Si dice, altrimenti che cosa farebbero coloro che si fanno battezzare per i morti? Se proprio i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per essi? Per comprendere il brano che molti usano per poter dire, vedete, se ci si fa battezzare per i morti, i morti sono vivi. Ecco, noi dobbiamo guardare il contesto e ricordare anche che la punteggiatura non esiste nei testi originali. Questa fu aggiunta soltanto secoli più tardi. Consideriamo allora il contesto. Nei versetti da 12 a 19 e da 29 a 32 di questo passaggio importante di Prima Corinzi, capitolo 15, Paolo dice che cosa sarebbe dei credenti se non ci fosse la risurrezione. Se i morti non risuscitassero, allora, versetto 13, anche Cristo non è risuscitato. Versetto 14, la predicazione è vana, la fede è inutile, poi saremmo falsi testimoni, Cristo pure non è risuscitato, la fede è vana, ripete, siete ancora nei vostri peccati, anche i morti in Cristo, versetto 18, sono perduti. Perché allora farsi battezzare, versetto 29? Ecco, questo collegamento ha fatto credere a molti che battezzarsi per i morti significa avallare l'idea che i morti sono in qualche al di là e possono essere evocati. La conclusione invece è chiara. Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo perché domani morremo, versetto 32, lo dice Paolo nello stesso contesto. Questa però non è l'idea dell'Apostolo e neppure il messaggio del Vangelo. L'Apostolo vuole dirci, versetto 29, che senza la risurrezione dei morti, quindi i morti devono risorgere, non sono in qualche al di là, quindi senza la risurrezione lo stesso battesimo sarebbe inutile e che anche dopo essere battezzato l'uomo sarebbe senza speranza se non ci fosse la risurrezione. Basta cambiare la punteggiatura nel versetto 29 e leggerlo alla luce di tutto l'insegnamento biblico per capirne il senso veritiero. Il testo dice così, altrimenti cosa faranno coloro che si sono battezzati per i morti se i morti non risuscitano? Perché si lasciano battezzare per la morte? Non dimentichiamo che al tempo della Chiesa Apostolica il battesimo era legato al pericolo del martirio. Chi dunque si lascia battezzare rischiando la vita senza la speranza della risurrezione? Tutto finirebbe con la morte nella tomba. Anche gli atti simbolici del battesimo sarebbero senza alcun valore e senso se non si avesse la certezza che un giorno i morti risusciteranno. Quindi i morti risusciteranno un giorno, come dice la Bibbia alla fine dei tempi. Questo è in realtà quello che vuole dire Paolo in questo stralcio tratto dalla Prima Corinzi, capitolo 19, dal versetto 13 al 29. Un altro testo che viene citato per accreditare l'immortalità dell'anima è Giovanni capitolo 11, versetti da 20 a 25. Il testo dice, benché sia morto, vivrà, riferendosi a chi crede. Gesù non dice, chi crede me continuerà a vivere anche dopo la morte. Ma dice una cosa precisa, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. In altre parole, chi crede in me, anche se muore, sarà risuscitato e vivrà, ma alla risurrezione dell'ultimo giorno, come sempre insegna la Bibbia. Un passaggio molto spinoso che molti usano per sostenere l'immortalità dell'anima è quello della parabola dell'uomo ricco e il povero Lazzaro, contenuta nel libro Vangelo di Luca, capitolo 16, versetti da 19 a 31. Muore un povero, muore un ricco. Il ricco morì e fu sepolto nell'Hades e era nei tormenti. Quindi allora a un certo punto lui chiede aiuto a coloro che sono vivi e dice, qui si sta male, andate dai miei parenti a riferire che se non osservano i comandamenti di Dio avranno la stessa sorte anche loro dopo morti. Quindi ci dicono i sostenitori dell'idea dell'immortalità dell'anima, vedete, si può dall'aldilà parlare con quelli che stanno nell'aldiquà. Ma Gesù con questa parabola vuole proprio distruggere una mentalità dell'epoca. Si pensava, dopo morti, di andare nel seno di Abramo e i personaggi poco graditi al Regno dei Cieli andavano in questo luogo, diciamo, di tormento nell'Hades. E Gesù vuole dire le cose non stanno così. Infatti al termine della parabola, che prende spunto da una credenza del suo tempo, lui dà la verità che distrugge quella credenza e rimette a posto le cose in maniera consona alla verità rivelata da Dio nella Bibbia. Alla fine della parabola si dice, perché uno dei personaggi parla, guarda che i tuoi parenti hanno Mosè, hanno la Torah da poter studiare. Quindi se non saranno salvati facendo quelle operazioni, non saranno salvati neppure se uno dei morti risuscitasse per andare ad avvertirli. Ecco l'insegnamento di Gesù. Certo, i morti potrebbero fare qualcosa per i viventi, ma dovrebbero risuscitare. Quindi vuol dire che sono morti. Vuol dire che non sono in paradiso o all'inferno o da qualunque altra parte e non possono dialogare con noi. Lo possono fare solo tramite una parabola e una tradizione cara agli israeliti del tempo di Gesù. Ma Gesù vuole proprio correggere il tiro e dire neppure se risuscitasse un morto, coloro che non vogliono ascoltare ascolteranno. Quindi i morti dovrebbero risuscitare, ma come sappiamo i morti dormono. Un altro testo della scrittura che viene citato per sostenere l'immortalità è Matteo 17 da 1 a 8, il famoso miracolo della trasfigurazione sul monte. In questo contesto, a brevio perché conoscerete tutti il contesto e l'evento, insieme a Gesù apparvero Elia e Mosè. Si dice, ecco vedete, se Elia e Mosè possono apparire vuol dire che sono vivi nell'aldilà. Allora il discorso è molto semplice, basta leggere tutta la Bibbia e si scopre che Elia venne rapito in cielo senza incontrare la morte. Il secondo, Mosè, morì ma venne risuscitato. Ma Elia e Mosè, dicono gli studiosi, sono i rappresentanti di coloro che saranno in qualche modo testimoni della seconda venuta di Gesù. Quando Gesù tornerà alcuni sono vivi e verranno rapiti in cielo come Elia senza passare attraverso la morte e alcuni come Mosè che sono morti verranno risuscitati per entrare in cielo. Il discorso è molto, come vedete, il discorso è molto più semplice di quanto possa apparire in un primo momento. Tra poco vedremo altri testi. Un altro passo molto importante si trova in Matteo capitolo 10 versetto 28. In questo contesto Gesù dice che non bisogna temere coloro che uccidono il corpo ma coloro che uccidono l'anima. Quindi ne consegue, dicono i sostenitori dell'immortalità, che l'anima può essere uccisa, quindi può essere anche immortale insomma. Ebbene Gesù evoca le sofferenze che attendevano i suoi discepoli. Gli uomini potranno anche togliere loro la vita ma il loro potere finisce lì. Gesù infatti dice non temete, coloro che uccidono il corpo. E dopo di ciò non possono fare niente di più. Vi mostrerò io chi dovete temere. Temete colui il quale, dopo aver fatto morire, ha il potere di gettare nella ghenna. Gesù distingue tra la morte che attende ognuno di noi e la morte nel fuoco, che riguarda solo gli impenitenti. Gli uomini possono sì condannare i fedeli alla prima morte, ma non alla seconda, cioè quella eterna. Così dice Apocalisse, così dice tutta la Bibbia. La seconda morte è quella che uccide per sempre, che fa morire per sempre. In Matteo capitolo 5, versetti 29 e 30, leggiamo che tutto il corpo, l'essere intero dell'impenitente e non l'anima immortale, sarà gettata nella ghenna. I profeti e Cristo ci dicono che gli empi non soffriranno in eterno, ma periranno. Non esisteranno più. Come gli sterpi e la stoppia vengono bruciati, così sarà per gli iniqui alla fine dei giorni. Quello che dice Malachia è quello che dice l'Apocalisse. I persecutori possono uccidere, ma non hanno il potere di togliere la vita futura che Dio ha promesso ai suoi fedeli. Un altro testo importante è quello di Apocalisse 6, da 9 a 11, dove si dipinge una scena nella quale si trovano i martiri sotto l'altare che gridano, Signore, fino a quando? Fino a quando? Quando è che potremo avere giustizia? Gridano a gran voce. Quindi si dice, ecco, ci sono delle anime in cielo che gridano a gran voce. I martiri gridano vendetta, ma lo stanno facendo realmente? Non viene forse da pensare che l'autore sacro si sia espresso così come si è espresso il redattore del Genesi quando, parlando dell'uccisione di Abele da parte di Caino, fa dire a Dio la voce del sangue di tuo fratello grida dalla terra fino a me. Quindi è un grido simbolico. Qualcuno dice sì, però lì ci sono delle anime di fronte all'altare. Ebbene, io credo che non sia corretto perché proprio in quel contesto si dice che Dio dà soddisfazione a queste anime e dice loro sarete vendicati, insomma, avrete giustizia. E poi dice tornate a dormire. E quindi è un'immagine, è un'immagine. I morti sono nella tomba. In questo caso vengono simbolicamente fatti risuscitare per gridare vendetta e giustizia davanti all'altare, davanti al trono di Dio. E Dio dice loro avrete soddisfazione. Tornate a dormire, cioè tornate nella tomba. Anche qui la Bibbia è conseguente con se stessa, non cambia assolutamente parere sul sonno dei morti. Un altro testo molto importante che vorrei esaminare con voi è quello che racconta l'esperienza del ladrone sulla croce. Luca 23, versetti 42 e 43. Uno dei due ladroni si accorge che Gesù è il Messia che doveva venire e dice Signore ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli risponde come sapete. Però bisogna fare un appunto, bisogna dire che nel testo originale non esistono virgole, non esiste punteggiatura. Quindi bisogna stare molto attenti a come si legge il testo e lo si deve leggere alla luce dell'insegnamento di tutta la scrittura sul sonno dei morti, sull'immortalità o la mortalità. Gesù non può dire al ladrone oggi sarai con me in paradiso perché il regno di Dio proprio in quell'oggi quando Gesù fa la promessa al ladrone non è ancora instaurato. Il terzo giorno dopo la sua morte Gesù non è ancora salito al padre quindi non può aver portato con sé il ladrone. Nel testo originale si dice, si fa intendere in armonia con tutto il messaggio biblico che Gesù avrebbe detto al ladrone benissimo ho inteso il tuo desiderio, lo soddisferò e oggi ti dico, è una espressione che si usava nell'ebraismo antico, oggi ti dico, te lo dico adesso, tu sarai con me in paradiso ma quando? Certamente non quell'oggi come abbiamo visto ma alla fine dei tempi quando tutti i morti risusciteranno. Te lo dico oggi, espressione tipicamente ebraica, alla fine del mondo tu verrai con me nel mio regno. Questa è la corretta interpretazione di quel passo. Ultimo testo contenuto nel secondo libro dei Maccabèi capitolo 12 versetti 38 e 45 dove si veicola l'idea di una preghiera per i defunti. Noi sappiamo che i libri dei Maccabèi sono apocrifi non accettati dalla tradizione mai riconosciuti dagli ebrei di Palestina soprattutto perché nella diaspora giudaica venivano insegnate dottrine che non erano in armonia con l'antico testamento. Quindi gli autori degli apocrifi erano sotto l'influsso della filosofia greca e i loro pensieri purtroppo erano più vicini all'ellenismo che all'insegnamento biblico. Lo stesso redattore del secondo libro dei Maccabèi alla fine termina il suo scritto dicendo questo è quello che ho potuto fare, magari forse non in maniera soddisfacente, giudicate voi. Questo è il modo di dire di uno che non è ispirato perché tutti gli autori ispirati della Bibbia dicono il Signore mi ha detto. In questi libri ci sono delle credenze che hanno imbastardito il messaggio biblico originale e quindi vengono proposte come reali perché a quel tempo si usava praticarle. Quindi non c'è nulla che ci autorizzi a fare delle preghiere per i morti perché era una usanza che la Bibbia non ha mai accettato e che in un periodo storico della storia degli ebrei invece alcuni avevano istituito. Ma ripeto non c'è niente nella Bibbia che ci autorizzi ad andare in quella direzione. Bene io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto. La serie di trasmissioni termina oggi. Ricordo infine il mio indirizzo email e potete scrivermi per richiedere materiale, per fare anche delle critiche che saranno sempre bene accette e l'indirizzo è l.caratelli.it. A risentirci a tutti per una prossima serie di trasmissioni. Buona giornata e buon ascolto per il resto dei programmi della nostra emittente.